Sei straniero da poco arrivato in Italia e vuoi conoscere la lingua italiana? Iscriviti al corso di alfabetizzazione. Potrai così imparare e conseguire la certificazione di livello A1 e A2. La certificazione del livello A2 è importante per ottenere il permesso di soggiorno. Siete un fornitore? Hai arrivato in Italia e vuoi sapere l'italiano? Unire i nostri corsi di alfabetizzazione. Per ottenere i corsi di alfabetizzazione, potrai apprendere l'italiano e vi daranno le skills di livello A1 e A2 di livello A2 di livello A2, molto utile per ottenere il permesso di soggiorno. Sei un'estranger, è arrivato in Italia e vuoi apprendere la lingua italiana? Inscrisci-toi a la classe di alfabetizzazione. Non sei mai riuscito a conseguire il titolo di licenza media? Potrai frequentare il corso del primo periodo didattico. Insegnanti preparati ti guideranno al raggiungimento del tuo obiettivo. A questo corso possono iscriversi tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Vuoi avere un certificato di alfabetizzazione? Inscrisci il nostro primo semestre. I professori professionisti ti guideranno a ottenere i tuoi obiettivi. Tu non hai mai riuscito a attendere il titolo di brevet d'etude del primo ciclo? Inscrisci-toi al corso del primo periodo didattico. I professori qualifiati saranno guidati per il tuo obiettivo. Non sei mai riuscito a terminare gli studi come avresti voluto? Iscriviti al corso del secondo periodo didattico. Completerai l'obbligo formativo corrispondente al secondo anno della scuola superiore e potrai frequentare iscrivendoti al terzo anno della scuola secondaria da te scelta per ottenere il diploma che desideri. Do you want to finish the high school? You can attend the second semester corresponding to the two years and you will complete your compulsory schooling. If you want, you can continue enrolling in another school getting the high school diploma. Tu n'as jamais riuscito a terminer les études? Inscris-toi au cours de deuxième période didattique. Comme ça, tu vas compléter l'obligation scolaire correspondant à la deuxième année de l'école supérieure et tu pourras transcrire à la troisième année et continuer tes études dans l'école supérieure choisie et attendre les diplômes d'études secondaires. Il CPA organizza anche corsi di informatica, corsi di lingue, corsi di lingua inglese Trinity, sostenendo l'esame secondo il livello scelto. E allora cosa aspetti? Iscriviti anche tu, ti aspettiamo! Il CPA Centro Provinciale Istruzione degli Adulti è una scuola statale, pubblica, ministeriale e gratuita. Il dirigente e il CPA di Taranto sono io, Patrizia Capobianco. La sede amministrativa è a Taranto, in corso Vittorio Emanuele, numero 9, e ci troviamo precisamente al secondo piano della scuola Consiglio. I corsisti potranno frequentare la sede più vicina alla loro abitazione, scegliendo tra Taranto, Paolo VI, Grottaglie, Talsano, Manduria, Massafra, Martina, Ginusa. Quindi vi aspettiamo! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie!